Eccoci qua, buonasera, il telegiornale parte questa sera con ancora una volta le tensioni attorno al caso Macerata, chiamiamolo così. Perché? Perché ieri sera è stata ufficializzata la rinuncia da parte delle organizzazioni che avevano convocato per sabato una manifestazione antifascista, si tratta dell'Ampi, della Cigelle, dello stesso PD, delle altre organizzazioni che avrebbero partecipato. Perché? Perché è stato il sindaco di Macerata a chiedere di sospendere tutte le manifestazioni per evitare ogni rischio. Da questa mattina però si è capito, da un riferimento ben preciso contenuto in un articolo di Repubblica, che l'ispiratore, e comunque colui che ha coperto questa decisione, è il ministro dell'Interno Minniti, proprio per evitare qualsiasi turbativa, fra l'altro in piena campagna elettorale. Ma questo ha fatto esplodere la protesta dei vari segmenti della sinistra, che vogliono comunque poter manifestare a Macerata per quello che è successo, per ovviamente la sparatoria provocata da Traini, un neofascista, nei confronti, come sappiamo, delle persone di colore. È successo allora che ci sono state forti tensioni e che per parte loro le organizzazioni, che già avevano rinunciato alla manifestazione, hanno deciso di farne una nazionale, che si svolgerà altrove. Ma le tensioni sono anche proprio per tutto ciò che sta succedendo dopo i fatti di Macerata e anche per l'altra vicenda, quella della ragazza Pamela. Ci sono forti e dure prese di posizione da parte del centro-destra e anche alcune che passano la misura, come vedremo insieme, mentre dal punto di vista delle indagini non ci sono particolari novità. Vedremo anche che nel centro-destra c'è una sorta di situazione di stallo perché proseguono le differenziazioni tra Salvini e Berlusconi, che sono ormai all'ordine del giorno. Tanto che praticamente Giorgia Meloni ha dovuto riprendere apertamente i due alleati che si danno continuamente sulla voce con proposte che sono evidentemente antagoniste una rispetto all'altra. Ma poi vedremo anche gli altri fatti e soprattutto, innanzitutto, la questione Italo, quello che è il concorrente delle ferrovie dello Stato nel settore soprattutto dell'alta velocità. è stato venduto a un gruppo, a un fondo americano per una cifra molto molto alta, 2 miliardi e mezzo quasi di euro tra acquisto e presa in carico dei debiti precedenti. Questo vuol dire evidentemente che il settore è forte. A questo punto, lo diciamo qui nella presentazione, sarebbe anche opportuno che però con un settore così forte nelle punte, l'alta velocità, le tratte più importanti, si dedicasse attenzione e investimenti anche ai trasporti locali. I casi anche recenti dimostrano che c'è molto da fare. Poi però c'è anche altro di cui parlare. La cricca, ve la ricordate? Anemone, Balducci, sembra un'era geologica fa. Il processo però li ha portati a dure condanne. 6 anni per Anemone, 6 e mezzo per Balducci. Ma c'è anche la soluzione con formula piena per Guido Bertolaso, l'ex numero 1 della protezione civile. Non ha compiuto nessun reato, nessun tipo di reato e ora ovviamente canta vittoria e chissà che non voglia tornare sulla scena. C'è anche altro perché la Siria è tornata a essere il punto di esplosione non solo della vicenda medio orientale, ma anche delle strategie contrapposte di Mosca e di Washington. 30 secondi ai titoli. Si fa, se possibile, ancora più aspro lo scontro politico sui fatti di Macerata. Oggi la polemica riguarda soprattutto la sinistra, perché viene contestata la decisione che è stata presa dalle associazioni che avevano convocato una grande manifestazione proprio a Macerata in tema di antifascismo, ispirata questa decisione dal sindaco di Macerata e dietro di lui dallo stesso ministro dell'interno Minniti. Da Liberi Uguali si contesta questa decisione e forse la manifestazione si tenterà di farla comunque. Ma anche l'altra vicenda, quella legata alla morte di Pamela, la ragazza con ogni probabilità uccisa e sicuramente purtroppo fatta a pezzi, rinchiuse due valigie, restano molti dubbi e ci sono ancora molte polemiche, alcune delle quali assolutamente fuori misura. Acque agitate nel centrodestra, Giorgia Meloni prende le distanze dalle liti quotidiane tra Salvini e Berlusconi, incalza agli alleati chiedendo una risposta chiara contro l'ipotesi di maggioranza di governo diversa da quelle del centrodestra, ma di fronte all'invito alla manifestazione anti-inciucio il 18 febbraio sia Salvini sia Berlusconi rimangono freddi. Sei anni e mezzo a Angelo Balducci, sei anni all'imprenditore Diego Anemone, quattro e mezzo all'ex provveditore delle opere pubbliche della Toscana De Santis e quattro per l'ex generale della Guardia di Finanza Pittorru e la sentenza di condanna del processo alla cosiddetta Cricca accusata di aver pilotato appalti e commesse legate al G8 e ai grandi eventi. Ma c'è anche un'altra notizia importante dal processo, la soluzione con formula piena per l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Poco meno di sei anni dopo la corsa inaugurale Napoli-Milano, Italo diventa americana. Questa mattina ha ufficializzato il passaggio al fondo americano Jeep per 2 miliardi e mezzo di euro, debiti compresi. Entro l'11 febbraio il via libera definitivo dall'antitrust. Tramonta quindi la quotazione in borsa che era stata appoggiata solo ieri dai ministri Padone e Calenda. Buonasera, molte notizie importanti anche stasera. È una campagna elettorale che sembra restare ancorata ai veleni che sono seguiti ai gravi fatti di macerata. Un altro sviluppo che non si poteva prevedere nasce dalla decisione che è stata presa ieri sera praticamente da alcune grandi organizzazioni dalla CGL, dall'AMPI, dallo stesso PD di cancellare una manifestazione antifascista proprio a Macerata su richiesta del sindaco di quella città. Ma come si è capito questa mattina dietro a quella decisione c'era anche la pressione del ministro dell'interno Minniti per evitare possibili disordini e contatti tra forze opposte. La decisione della cancellazione però ha provocato ire proteste a sinistra. E ancora scontro politico su Macerata che sale di livello dopo l'appello lanciato ieri dal sindaco della città marchigiana a sospendere tutte le manifestazioni politiche. Appello raccolto dall'AMPI, dal PD e dalla CGL che hanno così disdetto la manifestazione nazionale antifascista prevista per sabato come reazione alla sparatoria di Luca Traini. Un tentativo, quello del primo cittadino, di evitare che la tensione debordi nelle piazze sostenuto anche dal ministro dell'interno Minniti a cui stamattina Repubblica attribuisce queste parole non smentite. Ringrazio l'AMPI per aver rinviato la manifestazione di sabato spero che facciano lo stesso le forze politiche altrimenti le vieterà il Viminale. Ma la sinistra non ci sta invita a distinguere i livelli impugnando la bandiera dell'antifascismo. Inaccettabile il divieto di manifestare scrivono da Liberi Uguali, Civati, Speranza e Fratoianni. Fascismo e antifascismo non sono in nessun modo paragonabili. Ne possiamo accettare che in nome di una malintesa responsabilità torni la teoria degli opposti estremisti. Il rischio è di spianare la strada al ritorno delle peggiori culture. Annunciano che saranno in piazza nonostante i toni più sfumati di grasso oggi a Macerata, che sembrerebbe più cauto rispetto alle ragioni di ordine pubblico. Dalla minoranza PD si fa sentire anche Cuperlo. Penso che riempire la piazza e esprimere un sentimento pubblico e condiviso contro i rigurgiti di fascismo e razzismo sia il più formidabile anticorpo per chi voglia tutelare e reinvigorire la democrazia. Ragioni che sembrano contagiare vari spezzoni della sinistra che non intendono rinunciare alla manifestazione. A livello locale è tutto un fiorire di adesioni dagli studenti alla FIOMA ma anche i centri sociali e potere al popolo. Adesioni che scavalcano la rinuncia delle organizzazioni nazionali PD, CGL e Ampi le quali annunciano però un'imminente manifestazione nazionale. I fatti di macerata del resto sono ormai combustibile dello scontro politico nonostante la linea PD ribadita oggi da Renzi bisogna abbassare i toni. Il ministro della giustizia Orlando infatti punta il dito su Berlusconi e Salvini. Sono degli responsabili dare una forma di giustificazione ad un comportamento criminale e terroristico è un modo per sdoganarlo e dargli valore politico. Se c'è qualcuno che è responsabile nei confronti degli italiani e della pace sociale la risposta di Salvini quello è il PD e torna ad attaccare la sinistra alle mani sporche di sangue. E c'è chi va ancora più in là è l'ex ministro Storace con un tweet per liberare il nigeriano diranno che Pamela si è suicidata e che prima di morire si è fatta a pezzi da sola si è infilata nella valigia e ha chiesto di essere accompagnata al cimitero scarceratelo pure faremo la fila per rendergli il fatto suo maledetto. Si è evidentemente oltre la misura sinché a esserlo sono degli sconosciuti con qualche nickname sui social network è già grave ma è ancora più grave se personalità della politica si spingono a questi livelli verbali noi non abbiamo nessun diritto di bacchettare nessuno però è evidente che così la campagna elettorale si abbelena ogni giorno di più. Allora stiamo ai fatti anche da Macerata I dubbi degli inquirenti sono ancora gli stessi chi ha ucciso Pamela Mastropietro cosa ha provocato la morte della ragazza romana di 18 anni trovata in due valigie alle porte di Macerata una settimana fa dopo una fuga da un centro di recupero per tossicodipendenti di Corridonia ancora non si sa per capire se si sia trattato di un omicidio offerato di un overdose provocata da una dose eccessiva di droga non è stata decisiva nemmeno la seconda autopsia come ammette in una nota lo stesso procuratore di Macerata Giovanni Giorgio la sintesi del comunicato diffusa in serata è questa non ci sono al momento elementi significativi emersi dall'esame medico legale occorrerà attendere ulteriori accertamenti che verranno effettuati la prossima settimana quella che emerge ormai come una delle poche certezze è che la ragazza non avrebbe subito violenze sessuali sul resto invece le domande restano aperte anche per questo innocent o segale il 29enne nigeriano immortalato dalle telecamere di sorveglianza in una farmacia insieme alla ragazza resta ancora in carcere ma con l'accusa di vilipendio e occultamento di cadavere la droga stando a quanto affermato l'uomo a Pamela l'avrebbe dato un suo connazionale Desmond Lucky che però nega di aver mai incontrato la ragazza e resta indagato a piede libero mentre da dietro le sbarre del carcere di Montacuto Luca Traini continua a non dare segni di pentimento è accusato di strage aggravata dall'odio razziale le sue vittime se i migranti sono tutte state dimesse dall'ospedale tranne Jennifer la donna nigeriana di 25 anni per cui Traini ha mostrato l'unico minimo segnale di pentimento è stata operata ieri la ragazza per ridurre la frattura all'omero ma le sue condizioni sono in miglioramento abbiamo già parlato molto in questi giorni di queste vicende è inutile continuare a soffermarsi ma certo quello che appare chiaro è che la campagna elettorale viene condizionata e siamo a 24 giorni dal voto da queste vicende ne viene intossicata e peraltro comunque anche prima dei fatti di Macerata era una campagna elettorale particolarmente nervosa in cui ciascuno recita la sua parte non ci sono confronti televisivi e ci sono soltanto gli equivalenti televisivi dei comizi di piazza di una volta e che ognuno va per conto suo e del resto questa è la logica del proporzionale anche se ci sarebbero dico ci sarebbero le coalizioni ma è proprio l'esponente di una coalizione quella che è più avanti stando ai sondaggi a richiamare i suoi alleati sono ragazzi questi capito lei Berlusconi e Salvini sono ragazzi loro si divertono le riga sono ragazzi giorgia meloni giorgia meloni liquida così l'ultimo botta e risposta tra silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul condono edilizio proposto dal leader di forza italia e subito bocciato da quello della lega l'ultimo capitolo del duello a distanza tra i due alleati concorrenti in corsa per il primato nella coalizione anche se oggi Berlusconi precisa non ho mai parlato di condoni ma solo di semplificare le procedure e sanare l'abusivismo di necessità la presidente di fratelli d'italia contraria alla sanatoria edilizia incalza ancora Berlusconi e Salvini sulle ipotesi di maggioranza di governo diverse da quelle di centrodestra intese da cercare in parlamento dopo il voto per esorcizzare le quali la meloni ha convocato una manifestazione antinciuccio il 18 febbraio invitando gli alleati rimasti gelidi non capisco spiega Berlusconi dice che non ci saranno voti di forza Italia per fare un governo con il PD Salvini dice che non ci sono i voti della Lega per fare un governo con i 5 stelle ma dicono no alla nostra manifestazione è mancanza di chiarezza qualcosa non mi torna i voti di fratelli d'Italia non ci saranno mai per fare governi d'inciuccio replica Salvini ma quale ambiguità noi della Lega stringeremo un patto di lealtà con gli italiani contro ogni governo diverso dal centrodestra in piazza Duomo a Milano la Meloni venga da noi il 24 febbraio se non ci sarà la maggioranza in Parlamento si deve tornare al voto ma sono sicuro che vinceremo e che la Lega scavalcherà forza Italia e potrò passare dalle parole ai fatti non vedo l'ora di prendere per mano 60 milioni di italiani la stessa fiducia nella vittoria che ha il candidato premier dei 5 stelle Luigi Di Maio gli scenari post voto sono due o il Movimento 5 Stelle va al governo o è il caos Renzi e Berlusconi hanno capito che insieme non faranno il 51% e dicono che si tornerà a votare sono degli irresponsabili perché questa situazione l'hanno creata loro apposta per fare l'inciucio ma ora che sanno che non ci riusciranno sono nel panico e non hanno nessun piano B io sono fiducioso molto fiducioso in questi 25 giorni tutto può cambiare e possiamo arrivare ad avere la maggioranza c'è un processo che è arrivato a conclusione e ci ricorda tempi non lontani anche se sembra un'era geologica fa ve la ricordate la cricca quella di Anemone e Balducci la cricca che riusciva a mettere le mani su una serie di appalti appalti pubblici su grandi opere e anche su quello che fu il G8 spostato all'ultimo momento dalla Maddalena all'Aquila città martire del terremoto ebbene quel processo alla cricca appunto è arrivato a conclusione con delle pene dure nei confronti di quei due protagonisti e di chi li aiutò nella loro azione ma anche una assoluzione piena che farà altrettanto rumore all'inverso perché quella di Guido Bertolaso che fu il gran capo della protezione civile Guido Bertolaso non è in aula quando il presidente dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma legge la sentenza ma lo informano subito ovviamente e in pochi minuti crea un gruppo Whatsapp assolto nel quale infila tutti quelli che in otto anni di angosce giudiziarie non hanno mai dubitato di lui prima ti ignorano poi ti deridono poi ti combattono poi vinci scrive Bertolaso che prima di finire indagato per corruzione aveva guidato la protezione civile con Berlusconi con Prodi e ancora con Berlusconi dal 2001 al 2010 era l'uomo forte di ogni emergenza dal crollo di San Giuliano di Puglia ai rifiuti in Campania al terremoto in Abruzzo all'alluvione di Messina al G8 dell'Aquila un funzionario dello Stato sempre vincente su tutti i fronti che improvvisamente cade dagli altari alla polvere assieme alla cricca quel sistema gelatinoso secondo la definizione degli stessi soggetti intercettati che vedeva da un lato un'intera gerarchia di funzionari pubblici corrotti ciascuno gratificato economicamente in termini di prezzo della corruzione in base al ruolo rivestito e dall'altro un numero chiuso di imprese favorite prime fra tutte quelle del gruppo Anemone ammesse nel fortunato circolo dell'assegnazione degli appalti miliardari a prezzo di pesantissime prebende mazzette, regali, escort e assunzioni inquinarono gli appalti del G8 evento che doveva tenersi alla Maddalena fu portato nell'Aquila terremotata e poi le opere per i 150 anni dell'unità d'Italia e anche i mondiali di nuoto di Roma oggi sei anni e mezzo di pena per l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci e sei anni per l'altro promotore dell'associazione delinquere il costruttore Diego Anemone quattro anni e mezzo per l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio Resantis quattro anni per l'ex generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru Bertolaso salvato comunque dalla prescrizione viene assolto perché il fatto non sussiste era accusato di aver preso 50.000 euro cash da Anemone e di aver frequentato il suo circolo e salario a Sport Village per avere i favori gratuiti di una massaggiatrice uno scambio di utilità con l'imprenditore al quale affidava le migliori commesse lui ha sempre negato a fine 2010 mentre esplodeva l'indignazione per le ruberie della Cricca se ne andò in pensione a seguire progetti umanitari tra Sierra Leone Sudan Etiopia Kenya Uganda Camerun due anni fa Berlusconi lo convinse a correre per il Campidoglio ma appena Forza Italia scelse di appoggiare Alfio Marchini Bertolaso si chiamò fuori e tornò in Africa fino a ieri diceva con istituzioni e politica ho chiuso farò solo il medico e il nonno ora vedremo ma c'è un'altra sentenza di un processo per un fatto recente e gravissimo che ci riporta a tematiche che abbiamo già affrontato questa sera nove anni e otto mesi al termine del processo con rito abbreviato questa la condanna emessa dal giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti dei tre minori stranieri lo ricorderete accusati delle violenze sessuali contro una ragazza polacca e il suo compagno in pieno agosto scorso sul lungomare proprio di Rimini e tra l'altro anche una trans peruviana era stata era stata violentata da questi tre minori nei loro confronti il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni di carcere i tre sono i complici dell'altra persona dell'altro extracomunitario Guerlain Butungu congolese ventenne che era considerato appunto il capo del branco che è già stato condannato a 16 anni andiamo a vedere adesso quello che è il colpo grosso di un grandissimo fondo americano sul mercato italiano infatti è comprato il secondo gestore chiamiamolo così e dei treni ad alta velocità cioè Italo l'offerta era allettante poco meno di 2 miliardi e mezzo di euro l'acquirente di tutto rispetto il fondo global infrastructure partners GIP con sede a Manhattan una potenza di fuoco da 40 miliardi di dollari 21 mila dipendenti e l'intenzione di espandersi in Europa così Italo nuovo trasporto viaggiatori società che gestisce metà dell'alta velocità nazionale ha detto sì il 100% del capitale passa al fondo GIP dopo il via libera degli azionisti nel nuovo incontro di questo pomeriggio il consiglio di amministrazione presenti l'amministratore delegato Cattaneo e il presidente Montezemolo ha deciso il ritiro della domanda per la quotazione del gruppo in borsa gli accordi prevedono che gli azionisti incassino il dividendo di 30 milioni deliberato dall'assemblea della società e che la stessa società sostenga le spese relative all'interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro la sottoscrizione del contratto di compravendita la cui esecuzione è condizionata da via libera dell'antitrust avverrà entro l'11 febbraio quanto all'acquirente il fondo Global Infrastructure Partners è il più grande del mondo specializzato proprio in infrastrutture ferrovie aeroporti gasdotti porti energia trasporti e trattamento dei rifiuti i tre settori chiave oltre che in Italia in Europa GIP ha fatto acquisizioni in Germania Spagna ed è presente nel Regno Unito con gli aeroporti di Gatwick e di Edimburgo è un'operazione importante che dimostra la validità degli asset italiani dice il ministro dell'economia Padoan dopo che ieri in una nota congiunta col collega dello sviluppo economico Carlo Calenda aveva espresso la preferenza per la quotazione in borsa di Italo ma riconoscono i due la società è privata e fa quel che vuole e al contrario di acquisizioni esteri in altri settori di grandi rischi per il paese non ce ne sono e continuano le turbulenze sui mercati finanziari e anche oggi le borse europee sono andate pesantemente in negativo in chiusura come state vedendo Milano ha chiuso a 2,26% in negativo ma peggio è andata a Francoforte con meno 2,62% i listini europei risentono del nervosismo di Wall Street e degli indici della borsa americana che sono altalenanti dopo che martedì c'è stato il peggior calo degli ultimi due anni e mezzo gli investitori stanno ancora cercando di capire se queste oscillazioni repentine sono incidenti di percorso o la spia di una fase ribassista del mercato che interromperebbe una salita continua che dura ormai nove anni in questo momento a Wall Street il Dow Jones sta perdendo l'1,62% mentre il Nasdaq il titolo come si sa l'indice dei titoli a più alta tecnologia sta avendo sussulti continui tra il meno 1% e la fase positiva bisogna raspettare quindi la chiusura ma bisogna parlare di un altro argomento che ancora una volta riaccende le speranze italiane segnatamente di Milano per quella corsa che sembrava perduta dopo il famoso famigerato sorteggio stiamo parlando della sede dell'EMA l'autorità europea sui farmaci assegnata a Amsterdam ma con una coda che forse si fa più spessa l'italiano molle continua a tenere alta la pressione sull'ineguatezza della scelta della nuova sede dell'EMA non solo l'edificio previsto è la metà di quello che era stato scritto dobbiamo aspettare 11 mesi dovremmo lavorare in un albergo dove ricordiamoci bisogna trattare temi sensibili e in più costa 3 milioni in più rispetto a quanto avevano previsto nel primo dossier ricordo che l'Italia lo dava gratis per i primi 6 anni l'offerta fatta da Amsterdam è incresciosa sono emerse alte criticità gli olandesi ci hanno venduto il pacco continua il ministro della salute Beatrice Lorenzin che usa toni poco morbidi è un fatto grave non intendo passarci sopra da Strasburgo intanto al termine della riunione plenaria dell'Europarlamento è arrivato il via libera la missione esplorativa il 22 febbraio ad Amsterdam per capire come si stia lavorando per preparare la sede provvisoria il Palazzo Spark che deve essere pienamente operativo dal 30 marzo 2019 e vedere lo stato del cantiere della sede definitiva quel Palazzo Vivaldi promesso in piena efficienza durante la presentazione di novembre una istruttoria autonoma del Parlamento Europeo sul dossier della scelta di Amsterdam come nuova sede dell'Agenzia del Farmaco decisa da un sorteggio e che ora presenta il problema non secondario di un ritardo nella preparazione sopra luogo i ricorsi sono i ritardi degli olandesi alla base delle speranze italiane non sarebbe vero che ieri durante la riunione dei dirigenti di EMA non sarebbero emerse criticità sul dossier olandese e che al termine dell'incontro si sia detto va tutto bene così avrebbero riferito i rappresentanti italiani ai vertici di Palazzo Chigi comune di Milano e Regione Lombardia il tempo però gioca a sfavore di Milano le decisioni della Corte di Giustizia Europea hanno tempi incompatibili con decisioni tempestive e nell'euro sfida entra anche un particolare che ha fatto arricciare il naso ai legali italiani il giudice incaricato ad occuparsi del ricorso d'urgenza per bloccare il trasferimento presentato da Palazzo Marino e Regione Lombardia al Tribunale è olandese Andiamo adesso a vedere come sulla scena internazionale di nuovo le tensioni più preoccupanti arrivano dalla Siria dopo la lunghissima guerra civile dopo la guerra all'Isis almeno quella apparentemente conclusa ora purtroppo il territorio siriano sembra il terreno di sfida tra quelle che una volta venivano definite le due superpotenze a Guta città siriana non lontana da Damasco in quattro giorni sono morte più di 200 persone oggi le ultime 58 tra cui 15 bambini città ribelle mai arresa sia alle forze governative e dei loro alleati russi Guta è sotto assedio da quattro anni e da lunedì è prepotentemente tornata nei mirini delle aviazioni sia russa che siriana russa anzitutto dicono gli osservatori perché c'è da vendicare la morte di un pilota di Mosca abbattuto dai ribelli con il suo oggetto lo scorso weekend e questi sono i risultati e pensare che nelle carte che dovrebbero disegnare la pace futura in Siria Guta è una delle zone individuate per la cosiddetta de-escalation del conflitto un'area individuata per far defluire miliziani civili e svuotare quel che ancora resta della città dopo quattro anni di bombe e colpi di mitraglia spostandoci nell'area di Neher Zor ecco altri protagonisti della querel siriana qui infatti operano le forze democratiche siriane appoggiate dall'America in funzione anti-califato sostengono dal Pentagono ma senza negare un occhio di riguardo al destino del regime del presidente siriano Assad che Washington vorrebbe defenestrare forze americane che nelle ultime ore con raid mirati hanno ucciso almeno 45 tra soldati regolari siriani e miliziani alleati in risposta ad attacchi di questi ultimi avvenuti sempre nelle ultime ore a testimonianza a tutto ciò che la normalizzazione sul suolo siriano rimane per adesso un'utopia i russi accusano gli americani di volersi impossessare delle risorse del paese orientale l'area di De Rezor dove si muovono infatti è quella che ospita i più grandi giacimenti petroliferi del paese ultimo scenario quello a nord con l'esercito turco questa volta che da settimane è a caccia di miliziani kurdi sia siriani che turchi per un'operazione di pulizia etnica dal nord della Siria che Ankara non ha mai nascosto e di cui prima o poi visto il nuovo caos scoppiato nelle ultime settimane il presidente turco Erdogan dovrà discutere con il ministro degli esteri Russo Lavrov ma senza sapere esattamente quando insomma nuove nubi su questa guerra dimenticata per poche settimane ma dimenticata una guerra lunga sette anni doveva finire all'inizio del nuovo anno e portare i suoi protagonisti interni ed esterni al tavolo negoziale ma nulla di tutto questo è accaduto e sta accadendo dopo di noi l'ospite principale di Lili Gruber a 8 e mezzo è Emma Bonino con lei ci sono Alessandro Sallusti e Alessandro De Angelis poi come ogni giovedì c'è Piazza Pulita e tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono il ministro Graziano Del Rio il governatore della Liguria Giovanni Totti ma anche Filippo D'Averio Lucio Caracciolo e Claudio Cerasa noi ci fermiamo Vi dicevo prima degli indici di New York che in questi pochi minuti hanno avuto un ulteriore peggioramento in questo momento a Wall Street il Dow Jones sta perdendo il 2,15% e il Nasdaq pure è sceso sotto la soglia del meno 2 a meno 2,10 e sta continuando a scendere in tempo reale 2,15 e via dicendo quindi ancora una seduta molto negativa e vedremo quali saranno le ripercussioni noi più ravvicinatamente diamo invece la linea a Lilli Gruber e poi a Corrado Formigli ci vediamo domani sera buona sera buona sera